Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attivo anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Sasha è una ragazzina e vorrebbe esplorare il mondo con gioia fino a divorarlo. Ma purtroppo, a volte, è il mondo che può prendere a morsi la vita attraverso le fauci dei suoi mostri. È il 2013 e ci troviamo a Blackpool, una vivace località balneare che si trova nella contea di Lancashire, in Inghilterra. Sasha Martzen è una ragazzina di 16 anni che, dal 2004, vive con la sua famiglia vicino a Blackpool, in un pittoresco villaggio chiamato Staining. Sasha Martzen nasce il 7 maggio del 1996 ed è la più piccola di 5 figli. Ha due sorelle di nome Gemma e Katie e due fratelli, Mark e Thomas. La mamma, invece, si chiama Jane e il padre, Gary. Sasha è la piccola della famiglia, una ragazzina sfacciata e anche un po' dispettosa, ma divertente. Infatti ha molti amici con cui ama uscire. Come tanti adolescenti, Sasha considera un po' imbarazzante stare con gli amici in presenza dei genitori, ma allo stesso tempo conta molto su di loro. Chiede sempre a suo padre Gary di accompagnarla agli appuntamenti con i coetanei e lui non si tira mai indietro. La porta ogni volta a Blackpool, dove abita la maggior parte degli amici di Sasha. Dunque lei passa molto tempo lì, vivendo delle ore spensierate. Per Katie, sua sorella Sasha, sa essere piuttosto testarda. È una che, dopo averla incontrata, risulta impossibile dimenticare. Sasha però è anche affettuosa, gentile e premurosa. Gli amici la descrivono come una persona davvero solidale. Infatti, se uno di loro ha il morale a terra, lei cerca sempre di confortarlo o di farlo ridere. Un'altra sua caratteristica è che ama la musica e adora ballare. Appena senti una canzone che le piace, comincia a muoversi a ritmo. Poco importa dove si trovi. Insomma, Sasha è una ragazzina serena e frizzante, ma purtroppo, quando ha circa 14 anni, nell'estate del 2010, è vittima di un'aggressione terrificante. L'evento che sto per raccontarvi ha un impatto notevole sulla sua salute mentale. Le cambia profondamente il carattere e il temperamento. Quell'adolescente solare ed energica che era l'anima della comitiva, sembra scomparsa. Come accennato, un giorno di luglio 2010, dopo la scuola, Sasha e un suo amico più piccolo di lei di un anno, vanno insieme in un parco a Blackpool. Si stanno divertendo finché vengono avvicinati da uno sconosciuto che ha circa 22 anni. Questo ragazzo più grande chiacchiera con entrambi e infine offre loro della vodka. Sasha non ha mai bevuto alcolici in vita sua. È incuriosita e decide di assaggiarla, ma ovviamente il suo livello di tolleranza alla bevanda è scarso. Sasha perde i sensi ben presto e lo sconosciuto si approfitta di lei, lì, nel parco. L'amichetto di Sasha vorrebbe difenderla, ma è davvero spaventato. Teme di non poter sopraffare l'aggressore, un uomo adulto e pericoloso. Fortunatamente, mentre sta avvenendo l'assalto, due donne notano l'accaduto. Intervengono per allontanare il molestatore e chiamano immediatamente la polizia. Intanto, Sasha è ancora distesa al suolo. Sono le 20.30 e Jane e Gary, siccome hanno stabilito il coprifuoco per Sasha alle ore 21, suppongono di vederla rientrare e di lì a poco. Contro ogni previsione ricevono però la telefonata della polizia, che li invita a recarsi in centrale. Scoprono così la terribile vicenda. La loro figlia più piccola ha subito violenza intima e il suo assalitore è stato arrestato. L'uomo viene accusato e condannato a trascorrere 5 anni e 4 mesi in carcere. Sasha, dunque, dopo questa traumatica esperienza, non è più la stessa. È sempre nervosa, si arrabbia molto facilmente e urla fino a squarciare il cielo, lasciando emergere una rabbia profonda. L'attacco disumano che Sasha ha subito le rende la vita difficile persino a scuola, dove diventa vittima di bullismo. Alcuni compagni la prendono in giro, la chiamano con nomignoli orribili, finché un giorno, una coetanea, le dice che merita ciò che le era successo. Meritava di essere aggredita. Dopo questo episodio, i genitori di Sasha la ritirano da quella scuola e la iscrivono a un'altra. Ma la ragazzina non ha voglia di andarci, è sempre più assente durante le lezioni, sceglie di marinare spesso la scuola. Jane e Gary affermano che Sasha ha iniziato a ribellarsi, a vivere in maniera sregolata. La sua quotidianità fa festa quasi tutte le sere, comincia a bere alcol regolarmente e si ubriaca davvero tanto, forse nel tentativo di scordare anche solo per un momento l'orribile aggressione che l'ha sopraffatta. Inoltre sta insieme a vari ragazzi, per poi cadere in depressione e praticare autonomismo. Come se non bastasse, Sasha scappa tante, ma tante volte di casa e non si fa vedere addirittura per giorni interi. I suoi genitori vivono ormai nella preoccupazione costante. Ogni volta che Sasha non torna a casa in tempo, sono assaliti dall'ansia, escono e vanno a cercarla ovunque. In diverse occasioni coinvolgono anche la polizia, chiedono aiuto per individuare la figlia il prima possibile e fortunatamente Sasha viene sempre trovata sana e salva. Nel luglio del 2012, Sasha, che ha compiuto 16 anni, inizia a frequentare un ragazzo di nome Danny, che ha un paio di anni in più di lei. Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2012, la ragazzina scappa nuovamente di casa, questa volta con il suo fidanzato. In pratica una notte esce con Danny, ma non torna più a casa, anche se avrebbe dovuto chiamare i suoi genitori per farsi venire a prendere. Jane e Gary iniziano a chiamarle insistentemente, ma lei non risponde mai, così denunciano la sua scomparsa alla polizia. Circa due giorni dopo la fuga, Sasha si mette finalmente in contatto con i genitori, li chiama e li tranquillizza dicendo che sta bene e si trova a Lowestoft, una città della contea dell'East Suffolk, che disca circa 483 chilometri da Blackpool. Dunque, lei ed Annie sono andati molto lontano. È chiaro che Sasha, di tanto in tanto, sente il bisogno di allontanarsi per un po' dal posto in cui è stata aggredita, ma i suoi familiari, nella speranza che torni presto a casa, accettano la condizione che Sasha pone per il suo rientro. Tornerà solo se accettano che Danny si trasferisca da loro. Come patuito, Gary va a prenderli e riesce a riportare a casa Sasha. Da questo momento, in realtà, la situazione inizia a migliorare gradualmente e Sasha riacquista un po' di serenità. Nell'autunno di quell'anno si iscrive a un college locale per studiare assistenza all'infanzia, dato che desidera tanto lavorare con i bambini. Infatti, nel Regno Unito, al compimento dei 16 anni, i ragazzi che desiderano accedere alle università devono frequentare dei college che forniscono una preparazione della durata di due anni. A Sasha il college piace davvero molto e ottiene buoni risultati nel corso che sta seguendo, al punto che, dopo un paio di mesi, la sua insegnante ritiene che è pronta per passare al corso di livello successivo. Sasha aspira anche a trovare un lavoretto part-time in modo da guadagnare qualche soldo, che le garantisca un po' di indipendenza. Così a gennaio del 2013 si sottopone a un colloquio come governante o addetta alle pulizie in un hotel a Blackpool. Questa chiacchierata va molto bene. L'esaminatore, cioè il direttore dell'albergo, sembra propenso ad assumerla. Le richiede di svolgere un breve turno di prova previsto per lunedì 28 gennaio 2013. Dunque, come sempre, Igeri accompagna sua figlia in città a Blackpool e la lascia sulla Hyde Street, punto d'incontro con il direttore dell'hotel che poi l'avrebbe portata sul posto di lavoro. Sasha si mette all'opera e dopo circa 90 minuti suo padre va a riprenderla. Quando torna a casa, Sasha racconta che la prova è andata molto bene, ha fatto un po' di pulizie, rifatto alcuni letti e infine ha fatto una chiacchierata col direttore. È felice perché, senza aver lavorato a lungo, ha già guadagnato le sue prime 10 sterline. Il direttore l'ha pagata e le ha detto che, se questo lavoro le piace, il posto è suo. Quindi Sasha viene assunta ed è entusiasta di guadagnare uno stipendio tutto suo. Anche i genitori sono felici e orgogliosi nel vedere quanta strada ha fatto dopo quell'orribile aggressione. Un paio di giorni dopo il suo turno di prova, il 31 gennaio 2013, Sasha si sveglia e si prepara ad affrontare la mattinata al college. È a questo punto che viene informata dall'insegnante che sarebbe passata a livello superiore del suo corso di assistenza all'infanzia. Dunque la giornata inizia davvero bene per Sasha. Al termine delle lezioni, suo padre la accompagna di nuovo sulla Hyde Street, dato che quel pomeriggio Sasha deve affrontare il suo primo vero turno in hotel. La ragazzina scena dall'auto e saluta suo padre dicendo che gli avrebbe scritto un messaggio più tardi. Lei si incammina verso l'hotel mentre Gary torna a casa. Dopo diverse ore, i genitori di Sasha si chiedono come mai non hanno ancora avuto notizie dalla figlia. Non ha mandato nemmeno un messaggio per comunicare l'orario in cui devono andare a prenderla. Così sono loro a scriverle. Poi suo padre prova anche a chiamarla, ma Sasha non risponde. Il suo telefono risulta spento o irraggiungibile. Scatta immediatamente la segreteria telefonica. All'inizio Gary e Jane non si allarmano più di tanto. Ipotizzano che Sasha sia semplicemente occupata e che quindi non abbia avuto la possibilità di guardare il cellulare. Continuano ad aspettarla, sanno che anche Danny deve contattarla perché avevano in programma di uscire alle 20 e 30 quella sera. Arrivano le 20, ma Sasha non si è ancora fatta viva e continua a non rispondere al cellulare. I suoi familiari adesso sono assaliti dall'ansia, non si spiegano questa assenza di notizie protratta per ore e ore. Di certo il turno di lavoro di Sasha è terminato. Decidono quindi di cercarla di persona, vogliono verificare se si trova ancora all'hotel, ma c'è un problema. Loro non sanno in quale albergo stia lavorando esattamente, non conoscono o non ricordano il nome. E a Blackpool ci sono davvero tante strutture ricettive, dato che è una località di mare che d'estate si riempie di turisti. Come detto, suo padre l'aveva lasciata sulla Hyde Street perché Sasha gli aveva riferito che quello era il punto d'incontro con il direttore, il quale poi l'avrebbe accompagnata all'hotel. Quindi Gary non conosce la posizione esatta della struttura. Danny, il fidanzato di Sasha, spiega però che lei si era sentita con questo direttore, un giovane di nome David, tramite Facebook Messenger per parlare dell'incarico. Dunque i genitori e il fidanzato della ragazza effettuano l'accesso dal suo account e grazie ai messaggi scambiati nella conversazione, risalgono al nome completo del manager, David Minto, che nel suo profilo ha indicato anche il nome dell'albergo, Grafton House Hotel e il rispettivo indirizzo. Gary e Jane rintracciano il numero di telefono della struttura e chiamano immediatamente, ma non hanno fortuna perché nessuno risponde. Tuttavia, ora che hanno l'indirizzo, possono recarsi di persona all'albergo. Ad accoglierli è proprio David Minto e Jane gli chiede subito se sua figlia sia ancora lì perché non riescono a rintracciarla. Il manager risponde è che la ragazza è già andata via perché il suo turno è finito da qualche ora. Salutandolo, lei gli aveva detto che aveva appuntamento con il padre fuori dal museo di Madame Tussaud, di Blackpool. Questa informazione fa preoccupare maggiormente i genitori di Sasha perché lei non li ha chiamati quando ha finito di lavorare. Dove si trova ora? Insomma, sanno che la figlia è scappata di casa spesso, ma ora Sasha sta vivendo un periodo di serenità. Non ne avrebbe motivo. Si sta godendo le soddisfazioni del college, è felice con il suo fidanzato Danny e ha ottenuto il lavoro che voleva. Perplessi, Gary e Jane la cercano in macchina, si dirigono a casa delle amiche e della figlia per verificare se si trovi lì. Infine, chiamano gli ospedali locali per sapere se hanno ricoverato una ragazza di nome Sasha Marsen. Continuano a mandarle messaggi e a chiamarla, ma non ottengono risposta. Sembra che Sasha sia svanita nel nulla. Alle 23 di quella sera, in assenza di confortanti e sviluppi, i suoi genitori chiedono l'intervento della polizia, chiamano il 999 e denunciano la scomparsa di Sasha. Poco dopo, due agenti arrivano a casa dei Marsen per raccogliere informazioni. Mentre un poliziotto rivolge loro diverse domande, l'altro si scusa perché deve lasciare il soggiorno per rispondere al telefono. Poi, riprende posto sul divano. Questo accade un paio di volte, ma la seconda, l'agente, torna con una notizia straziante da condividere con la famiglia Marsen. È stato scoperto il cadavere di una giovane donna e, da alcuni indizi, pare si tratti di Sasha. Un paio d'ore prima che la famiglia contattasse la polizia, dunque intorno alle 21 del 31 gennaio, alcune persone che abitano nei pressi di un vicolo di Blackpool hanno notato un addensamento di fumo e si sono accorte che era in corso un incendio. L'agente si è riversata in strada per cercare di capire cosa stesse andando a fuoco. All'inizio, in molti, hanno creduto di vedere un manichino avvolto dalle fiamme e uno dei residenti della zona ha provato a spegnerle. Si è avvalso di un grosso secchio d'acqua e, con l'aiuto di altre persone, è riuscito nell'impresa. Solo a questo punto i presenti hanno notato del sangue su quello che credevano fosse un manichino, ma che, in realtà, è il corpo di una giovane donna. Così hanno chiamato la polizia. Circa un paio di ore dopo viene denunciata la scomparsa di Sasha. Appartiene a lei quel cadavere gettato in un vicolo e dato in pasto alle fiamme? Siccome il corpo è gravemente bruciato, risulta difficile effettuare il riconoscimento solo mediante l'osservazione. Pochi giorni dopo, però, il test del DNA conferma che si tratta proprio di Sasha. L'autopsia rivela che la ragazzina è morta dopo aver subito numerose coltellate, infatti è stata pugnalata ripetutamente sia al collo che alla nuca. si conclude che è stata colpita circa 58 volte in totale. Durante quell'attacco feroce Sasha ha provato a reagire, infatti riporta anche diverse ferite da difesa sulle braccia e sulle mani. La povera ragazza è stata anche aggredita intimamente, quindi gli inquirenti credono di essere davanti a un omicidio a sfondo intimo, ma non riescono a stabilire se la ragazza sia stata aggredita prima o dopo la sua morte. In ogni caso la polizia sta attivamente cercando il colpevole e presto individua un primo sospettato, il manager 22enne dell'hotel David Minto, colui che aveva assunto Sasha per il lavoro di addetta alle polizie. In effetti il corpo senza vita della ragazza è stato rinvenuto in un vicolo e si trova proprio dietro l'albergo. Ecco un motivo per cui la polizia nutre forti sospetti su di lui. David Minto viene arrestato, portato alla stazione di polizia e preso in custodia. Mentre il detective lo interroga altri agenti indagano più a fondo su di lui e scoprono che David non aveva alcuna autorità per assumere qualcuno. Lui non è il direttore o manager dell'hotel ma lavora lì come custode. A essere proprietari e a gestire l'attività sono in realtà la fidanzata di Minto Richard Buttworth e la madre di quest'ultima. Quindi perché si era occupato dell'assunzione di Sasha? La polizia scopre anche che in entrambi i pomeriggi in cui Sasha aveva lavorato nella struttura quindi lunedì 28 gennaio e giovedì 31 gennaio ovvero il giorno in cui è morta David era l'unica persona presente in albergo con lei. La sua fidanzata infatti ogni lunedì e giovedì non arriva mai prima delle 21 perché in questi due giorni si dedica a un secondo lavoro. La polizia interroga anche lei e apprende che la sera di giovedì 31 una volta rientrati in hotel Rachel aveva avvertito un odore molto forte di detergenti per la polizia. L'odore proveniva proprio da David che stava pulendo. Non appena l'aveva vista Minto le aveva preannunciato prima che tu dica qualcosa ho ripulito tutto perché mi è uscito del sangue dal naso e ho sporcato. La sua fidanzata inoltre dice alla polizia che non sapeva nulla dell'assunzione di Sasha. Il fatto tra l'altro la stranisce perché in quel periodo ossia a gennaio l'hotel non necessitava di addetti alle pulizie. In inverno con il freddo a Blackpool non arrivano di certo tanti turisti e l'albergo era addirittura chiuso nella prospettiva di tornare operativo per la stagione balneare estiva. David in pratica aveva assunto Sasha per farle pulire le stanze e cambiare le lenzuola ai letti quando nella struttura non c'erano nemmeno degli ospiti e non ci sarebbero stati per mesi. Tutte queste informazioni ovviamente mettono in allerta gli agenti perché se fosse stato David Minto a uccidere Sasha significa che l'omicidio l'aveva premeditato. David le aveva offerto tramite Facebook un lavoro fittizio solo per attirarla in hotel negli orari in cui sapeva che sarebbe stato solo. Quindi la polizia durante l'interrogatorio gli chiede se abbia ucciso lui Sasha ma David nega. Tuttavia afferma che lui e la sedicenne hanno avuto un contatto intimo mentre lei era in hotel quel giovedì. Secondo Minto era stata lei a lanciarsi su di lui perché lo desiderava. Riferisce poi che il naso di Sasha aveva iniziato a sanguinare dunque lui l'aveva aiutata a ripulirsi. Infine lei se n'era andata. L'ultima volta che ha visto Sasha lei era viva conclude David. Questo resoconto cattura l'interesse della polizia. Prima David ha detto alla sua fidanzata che gli sanguinava il naso ma ora racconta agli agenti che era Sasha ad avere il naso che sanguinava. Secondo i detective Minto ha cambiato versione per coprirsi le spalle perché se la polizia avesse individuato delle tracce ematiche appartenenti a Sasha in hotel lui avrebbe potuto rispondere vi avevo detto che l'era uscito del sangue dal naso. In pratica David sostiene che qualcun altro ha ucciso Sasha dopo che lei aveva lasciato l'hotel per poi scaricare il suo corpo nel vicolo dietro all'albergo. La polizia non crede affatto alla versione di David e dopo il suo arresto una squadra forense viene inviata per perquisire l'hotel. Come sospettato vengono rinvenute notevoli tracce di sangue in tutto l'albergo dunque parliamo di una quantità che non può corrispondere a un sanguinamento dal naso. Principalmente le tracce si repertono in uno dei corridoi del piano terra. David aveva provato a ripulirne una parte ma chiaramente non ha fatto un ottimo lavoro. I campioni di sangue prelevati dall'hotel vengono inviati al laboratorio per essere analizzati. Quando arrivano i risultati emerge la corrispondenza. Quelle tracce ematiche appartengono a Sasha. La polizia inoltre individua nella cucina dell'hotel la probabile arma del delitto un coltello macchiato di sangue e con la punta leggermente piegata. Recupera dall'albergo anche alcuni vestiti di David che presentano delle tracce di sangue. Ulteriori tracce del sangue di Sasha emergono sui vestiti che David indossava quando è stato arrestato. Quindi anche se si era cambiato dopo l'omicidio non si era pulito a sufficienza infatti pure gli abiti indossati dopo si erano macchiati. La polizia continuando a indagare trova anche altri oggetti che sono collegati a Sasha. In uno dei bagni nel gabinetto recupera il gancio di uno degli orecchini che la sedicenne indossava quel giorno poi individua anche una collana che Sasha portava il 31 gennaio. Le prove contro David aumentano e la polizia il 3 febbraio 2013 ne ha raccolte già a sufficienza per arrestarlo con l'accusa dell'omicidio di Sasha Marsen. Ma David continua a rimanere fedele alla sua versione e continua a ripetere che non è lui l'assassino. Si dichiara non colpevole quindi deve affrontare il processo. Il processo inizia a metà luglio del 2013 circa sei mesi dopo l'omicidio di Sasha. In tribunale David racconta la stessa versione rilasciata alla polizia Sasha quel giovedì 31 gennaio appena entrata nell'hotel gli si era lanciata addosso e avevano avuto un contatto intimo che lui definisce consensuale. Poi la ragazza era andata via dall'albergo e lui era salito al piano di sopra per sbrigare alcune incombenze. Ma a questo punto la storia cambia perché David sostiene che poco dopo mentre era impegnato con le polizie aveva sentito un rumore simile a un botto. Così era sceso al piano di sotto per identificarne la provenienza e a quel punto aveva trovato Sasha riversa sul pavimento in un mare di sangue. Le si era avvicinato per soccorrerla ma si era reso conto che lei era già senza vita. In quel momento sempre stando alla sua versione David era andato nel panico era confuso non sapeva cosa fare ma invece di chiamare i soccorsi ha preso il corpo della ragazzina lo ha portato nel bagno e ha deciso di lavarlo poi l'ha avvolto in un tappeto e in un sacco della spazzatura infine l'ha abbandonato nel vicolo dietro l'hotel dice di non essere stato lui a dargli fuoco quindi deve averlo fatto qualcun altro siete d'accordo che questa versione non ha assolutamente senso? David avrebbe trovato il corpo di Sasha sul pavimento del suo hotel da cui lei era andata via ricoperto di sangue ed innanzi all'evidenza che era stata brutalmente uccisa lui cosa fa? non chiama i servizi di emergenza piuttosto decide di lavare il cadavere di portarlo fuori e di abbandonarlo in un vicolo levicino cosa altrettanto assurda quando ha visto Sasha pugnalata fino alla morte nel suo albergo non ha avuto l'impressione che l'assassino potesse aggirarsi ancora in hotel armato di coltello? non ha avuto timore per la propria vita? non ha pensato che chiamare la polizia fosse un atto necessario? la reazione che lui descrive è letteralmente priva di ogni logica quindi l'accusa fornisce il proprio resoconto sul susseguirsi degli eventi basato sulle prove ottenute l'accusa crede che David avesse attirato Sasha in hotel quel giorno con l'intenzione di aggredirla intimamente forse originariamente non aveva pianificato di ucciderla ma di certo voleva approfittarsi di lei in realtà quel precedente appuntamento per il turno di prova che aveva avuto luogo il 28 gennaio non corrispondeva al vero primo incontro tra Sasha e David i due infatti avevano un'amica in comune di nome Kim ed era capitato che si incrociassero brevemente a settembre del 2012 David Minto ci aveva provato anche con Kim ma quando lei gli aveva mostrato il disinteresse chiedendogli di lasciarle in pace lui aveva cominciato a volgere la sua attenzione verso Sasha le aveva inviato una richiesta di amicizia su Facebook che il 27 gennaio solo 4 giorni prima dell'omicidio le aveva scritto un messaggio inizialmente Sasha non si ricordava di David non l'aveva riconosciuto quindi aveva rifiutato la sua richiesta di amicizia allora lui le aveva mandato un messaggio precisando che si erano già incontrati in un'altra occasione in compagnia di Kim solo a quel punto Sasha aveva accettato la sua richiesta di amicizia e David le aveva immediatamente offerto un lavoro come governante nel suo hotel in pratica il colloquio è stato questo una chiacchierata in chat David ha finto di poterlo assumere autoproclamandosi manager dell'albergo Sasha come detto ha accettato di sostenere la prova il giorno seguente proprio perché era in cerca di un lavoro quindi insomma era felice di questa opportunità di certo non ha pensato alle terribili conseguenze a cui è andata incontro aveva solo 16 anni e questo era il suo primo lavoro desiderava soltanto guadagnare un po' di indipendenza economica ed era entusiasta Sasha aveva accettato l'incarico senza mai dubitare che fosse fittizio e come ormai sapete David l'aveva convocata in due pomeriggi in cui era solo in hotel quello del 28 e del 31 gennaio tramite messaggio David gli aveva precisato che doveva recarsi al turno di prova da sola Sasha gli aveva chiesto spiegazioni in merito e lui aveva risposto sai le persone mi rendono nervoso quindi assicurati di essere da sola dunque intorno alle 15.50 del 31 gennaio David aveva incontrato Sasha sulla Hyde Street come è già successo il 28 e da lì erano andati insieme all'hotel la polizia è riuscita anche a ottenere il video di una telecamera di sorveglianza guardate David è quello davanti vestito di bianco mentre Sasha lo segue è appena dietro di lui poco dopo i due erano arrivati all'hotel e si presume che Sasha sia stata aggredita e uccisa tra le 16 e le 17 di quel pomeriggio si ritiene che David le avesse fatto delle avance intime voleva andare a letto con lei ma Sasha l'aveva respinto non era di certo andata lì per quello ma per lavorare il suo rifiuto però aveva fatto arrabbiare David che aveva deciso di costringerla a vivere quell'atto indesiderato non gli importava che lei non lo volesse aveva usato il coltello per minacciarla e Sasha aveva fatto tutto il possibile per sottrarsi a quella forzatura come sapete le era già successo di subire questo tipo di violenza e non voleva di certo rivivere lo stesso incubo ma purtroppo David era riuscito sopraffarla poi aveva iniziato a pugnalarla ripetutamente sia alla testa che al collo Sasha è stata uccisa da una raffica di coltellate inferte in un corridoio al piano terra dell'hotel perché è lì che la squadra forense come detto ha trovato le più consistenti tracce del suo sangue vi ho raccontato prima che il coltello da cucina l'arma del delitto è stato trovato con la punta leggermente piegata questo vuol dire che David aveva usato davvero tanta forza nel pugnalare Sasha sappiamo anche questo che David si era approfittato di lei o mentre diceva morente o dopo la sua morte poi l'omicida aveva avvolto il suo corpo prima in un tappeto e poi in un sacco della spazzatura e l'aveva trascinato nel vicolo sul retro per dargli fuoco la polizia ha scoperto pure che mentre l'incendio devastava il cadavere della sedicenne David era in mezzo a coloro che si erano riversati in strada dopo aver avvertito il fumo che si espandeva si era mostrato preoccupato e aveva coinvolto altre persone affinché assistessero alla truccedanza di quelle fiamme quando la sua fidanzata era tornata in hotel lui aveva esortato anche lei a vedere cosa era successo sembrava quasi che volesse mostrare a tutti la sua opera malvagia era stata proprio Rachel a chiamare la polizia per denunciare la presenza di quel corpo che bruciava durante il processo viene anche sottolineato che David si era cambiato d'abito e che aveva cercato di pulire alcune tracce di sangue utilizzando dei prodotti chimici specifici poi l'accusa si avvale anche di una testimone chiave una donna 22enne che era stata aggredita da David solo tre settimane prima dell'omicidio di Sasha lei conosceva sia lui che la sua fidanzata e anche a questa ragazza David aveva offerto un lavoro come governante nell'hotel avevano fissato il suo primo turno in albergo sempre di giovedì e David le aveva mostrato le stanze fino a condurla nella sua camera da letto l'aveva fatta accomodare sul letto accanto a lui provocandole un forte senso di disagio c'era qualcosa in lui e in quella situazione che le sembrava fuori luogo dunque era diventata molto nervosa e faceva bene a esserlo perché era palese che David non aveva alcuna intenzione di offrirle un lavoro bensì l'aveva attirata in hotel con il preciso intento di provarci desiderava avere un rapporto intimo con lei quello di mostrarle le camere era solo un pretesto per condurla poi casualmente nella propria stanza dove lui e la sua fidanzata praticamente vivevano la testimone spiega che David aveva provato più volte a baciarla ma lei continuava a rifiutarlo lo rispingeva ma lui non si fermava insisteva nel toccarla allora la ragazza si era alzata di scatto era corsa fuori dalla stanza e poi dall'hotel scappando via il più velocemente possibile dopo il tentativo fallito con lei David Minto aveva deciso di riprovarci di darsi un nuovo obiettivo Sasha si era infatti assicurato che la sua prossima vittima non potesse sfuggirgli il processo di David si conclude il 26 luglio 2013 dopo aver ascoltato sia l'accusa che la difesa la giuria va a deliberare e impiega solo poche ore per giungere al verdetto David viene ritenuto colpevole dell'omicidio di Sasha Martzen e viene condannato all'ergastolo con un minimo di 35 anni questo significa che non gli sarà permesso di richiedere la libertà condizionale fino al 2048 l'anno successivo nel 2014 David tenta di fare appello contro la sua sentenza ma la sua richiesta viene respinta dopo la morte di Sasha Gemma una delle sue sorelle maggiori fonda un gruppo comunitario chiamato Yes Matters in italiano si è importante la cui missione è rendere più sicuro il Regno Unito l'azione del gruppo è rivolta alle donne e a tutti gli altri soggetti come i bambini che sono vittima di aggressioni intime e abbiati di ogni genere per mano di uomini violenti che non accettano un rifiuto come Gemma ha potuto apprendere dalle sue ricerche svolte al fianco di accademici professionisti e attiviste la tragica esperienza di Sasha non è un caso isolato o raro Gemma con questo gruppo si prefigge degli scopi educativi e di sensibilizzazione ma fornisce anche sostegno ad altre giovani donne che hanno subito la stessa aggressione per cui Sasha ha perso la vita questo purtroppo non le restituirà a sua sorella ma le fa onore perché rientra in quel progetto sempre urgente in cui tutti dovremmo impegnarci liberare le donne l'intero mondo dalla violenza e dalla sopraffazione allora io ho finito di parlare di questo caso e onestamente quando ho letto la storia di Sasha mi ha colpita moltissimo perché purtroppo da molto piccola ha subito una violenza intima e è rimasta molto scioccata da queste esperienze insomma ha vissuto un periodo molto buio molto difficile e mi piange il cuore sapere che purtroppo qualcuno l'ha uccisa e prima di averla uccisa ha compiuto lo stesso identico gesto mi dispiace davvero un sacco insomma Sasha era una ragazza solare gentile aveva avuto un periodo buio ma si era ripresa era riuscita a rimettere in carreggiata la propria vita era riuscita a iniziare il college andava benissimo tra l'altro ed è un gran peccato che davvero queste storie accadano e soprattutto che uomini come David Minto si approfittino così di altre donne di altre ragazze utilizzando come scusa una proposta lavorativa insomma lo sappiamo tutti abbiamo bisogno di lavorare negli Stati Uniti nel Regno Unito si inizia già a lavorare appunto a 16 anni insomma solitamente si fanno dei lavoretti part time e quindi è davvero triste secondo me questa storia proprio per come è andata per le dinamiche interne insomma Sasha voleva solamente trovare un lavoro voleva guadagnare i suoi soldi voleva la sua indipendenza e purtroppo però questa sua voglia di indipendenza l'ha portata ad una tragica fine e non è giusto non è assolutamente giusto secondo me perché purtroppo per Sasha questa voglia di indipendenza che è lecita cioè nel senso è più che giusta una voglia di indipendenza purtroppo l'ha portata però alla morte ed è davvero davvero triste fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso io nel frattempo come al solito vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti